Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. Circola in queste ore sul web un pettegolezzo che se fosse vero avrebbe dell'incredibile. Pare che tra Belen Rodriguez, da poco mamma bis con la nascita di Luna Marie, avuta da Antonino Spinalvese, e Damiano Davide De Maneskin ci sia del tenero. A riportarlo è stata Deyanira Marzano, pubblicando alcuni messaggi di un follower che parla della frequentazione tra i due. L'utente in questione ha scritto che lo scoop arriverebbe da X Factor, dove la band partecipò nel 2017, da un proprio conoscente che sta partecipando all'edizione 2021.